Pesce, stai giù dal palco, eh? Allora, adesso che siamo riusciti a fare... Avete capito il discorso che ho fatto sul disordine? No! Come no? Non hai capito? Una cosa... Allora, un po'... Vi faccio vedere che c'è un po' di bene ma in conto, se vedi? E' un quarto, di potenza... La squadra è a te, quattro? Siamo in fila in gara? Ecco le prime squadre che... Allora, qui sono stati portati due coppi del marido. La pallina va legata. Tutto giù, tutto giù, forza di corsa! Stiamo a portare gli armi, in realtà le da mettere sul palco. Perché il barco è a polvo e quindi dobbiamo mettere... Gli armi, sull'armi... Un solo dopo per volta... Ma siete proprio un po' lenti, eh? Siete proprio un po' lenti. Siete un po' lenti. Io pensavo che qui, in cinque minuti, finavamo tutti. Invece, sentiamo quella mezz'oretta... Quindi, a mezz'oretta, fino alle sette o alle otte di stasera, siamo fatti a fare i film. Ti ricordo che... Una volta! Ti ricordo che... Siamo qui, il cameraman... E finta tutto così... Se ci sono delle contestazioni, noi diamo la prova, diamo il dottaglio... E... Vai, vai! Sparichiamo tutto! Allora, adesso... Li arrabbiamo... Poi dopo... No? Mi sa così un po'... E' un fissacopo! No! Puoi salire... Va sui montagni alle otte di stasera! Allora, le notte... Quelle lo venite appena sulla... Così, lo avete... Santo... No, no! Andate dietro... Andate dietro... Continua... Passalo... Ecco... Ecco... Allora... Continua... Tendolo... Vai! Devi prenderlo... Mantella! Mi porto più, eh! No! Devi passare... Va bene! Fatelo passare... Comunque... L'avete fatto apposta, eh! L'avete fatto apposta, eh! L'avete fatto apposta, eh! Allora... Non scelto con il tipo a passare... No! Dietro, dietro! Andate dietro! Andate dietro! No! Andate dietro! No! 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 Vabbè! L'abbiamo beccata! La nostra prima vittima! Vieni, Anna! Anna! Vieni qua! Vieni qua! E'Now! E' visto due volte è fatto il giro, due volte è beccato te! Tanto faccio la matematica! Vado via! Chi si è visto? Sei visto? Voi intrattenete al pubblico! Ok! Dovete fare una pubblicità. Questo microfono è vero. Allora, adesso ci fate pubblicità, altrimenti facciamo fare il pino tutto il giorno sul parco. Ne mettiamo qua così, quando il pino. Buona, un bacio solo perché è Natale. E ai nonni? E' tanto buono, tre baci. E alla mamma? Tanti baci. E a me? Sono troppo buona. Applauso non si sente, un applauso forte, deciso e convinto. Oh, bravi. Grazie per la collaborazione. Hanno fatto anche la variante dei baci perugina. O magari loro tendono a dar baci, proprio quello che sta. Allora, continuiamo ancora un attimo con Davide. Dov'è? Alzatelo uno, il bambino, la bambina. Lo alzie. Un applauso alle due barzellettiere che ci raccontano la barzelletta. Adesso pensa la barzelletta, quindi per le cinque e mezza sei riusciremo forse a tagliare. Tu la sei già? Allora, comincia tu, tu pensa. La mamma dice a Pierino, vami a comprare il salame. Lui va con i suoi amici e dice... Si nasconde, non c'è spugno, si sta lipidendo e dopo l'impacchetta bene e dopo va a casa. E' finita la bambina. E' finita la bambina. E vabbè. O sono scemo io che non l'ho capita. Penso che abbia fatto ride. E' un po'. Ma no, questo va bene per il tempo che ci può, visto che piove. Allora, di un attimo. Lo semplice, lo semplice, lo semplice. Grazie a tutti.